Quali sono le nuove regole per la condivisione degli account su Netflix a partire da marzo 2023? Ciao, sono Valerio Novara. Oggi cerchiamo di fare chiarezza su quello che saranno le nuove regole che sono state emanate da Netflix negli ultimi giorni, poi ci sono stati dei cambi, cercando di fare uno spiegone su quello che succederà per gli account condivisi su Netflix a partire dal mese di marzo 2023. Innanzitutto dobbiamo fare chiarezza tra posizione principale e nucleo domestico, che sono due termini molto importanti per capire come si potranno condividere gli account a partire dal mese di marzo. Netflix ha fatto sapere che il nucleo domestico sono quel gruppo di persone che accedono all'account dalla stessa posizione principale, quindi familiari o coinquilini. Che cos'è la posizione principale? La posizione principale è l'indirizzo IP del wifi o comunque l'indirizzo IP dal quale si può impostare o dal quale si collega il creatore dell'account, colui al quale è associata la mail principale dell'account Netflix. Quindi si potrà impostare la posizione principale e cioè l'indirizzo wifi principale dal quale si potranno collegare anche i dispositivi dello stesso nucleo domestico andando nelle impostazioni e si potrà impostare quindi quale sarà la posizione principale e l'indirizzo IP del wifi principale al quale si potranno collegare anche gli altri familiari o coinquilini o amici. Verrà inviata un'email di verifica con un codice al quale che bisognerà inserire entro 15 minuti e si imposterà la posizione principale. Se non si farà da wifi di casa Netflix comunque prenderà l'indirizzo IP della connessione e del dispositivo dell'account principale e si potrà impostare qual è la posizione principale al quale si dovranno connettere necessariamente i componenti del nucleo domestico. Cosa importante è che Netflix per il momento ha fatto marcia indietro sul discorso dei 31 giorni. Che cosa è successo? Netflix all'inizio settimana aveva emanato queste nuove regole e poi dopo un paio di giorni ha cancellato la pagina e ha tolto il fatto che almeno una volta ogni 31 giorni i dispositivi collegati allo stesso nucleo domestico dovessero per forza collegarsi e vedere qualcosa sulla piattaforma per essere convalidati. Quindi non c'è più questa verifica dei 31 giorni. Però comunque si potrà impostare manualmente la posizione principale oppure verrà localizzata in automatico se già avete da anni insomma il vostro account Netflix quello collegato all'email di chi l'ha creato verrà localizzata attraverso l'indirizzo IP di internet. E per chi viaggia ovviamente ci sono quelle situazioni in cui per una cosa, per un motivo o per l'altro si è costretti a viaggiare e quindi a spostarsi e a non potersi collegare al proprio account Netflix dal wifi di casa. In questo caso verrà inviato sempre il solito codice di verifica alla mail associata all'account principale da utilizzare entro 15 minuti. E questo verrà fatto una volta ogni sette giorni. Non è chiaro al momento se lo scroccone di turno potrà chiederlo al proprietario dell'account ogni settimana per poter guardare Netflix all'infinito anche quando si trova in viaggio. Diciamo che sono regole che Netflix sta un po' limando e che attualmente non sono chiare a tutti quanti. Fatto sta che l'azienda sta sinceramente puntando molto sul ricavo e sul guadagno e rinunciando probabilmente a un po' di abbonati. Sono aumentate a dismisura le ricerche su Google per cancellare l'account Netflix e disattivare l'abbonamento. Non c'è dubbio che ci saranno ulteriori novità. Queste nuove regole entreranno in vigore da marzo 2023 e Netflix sta facendo modo in maniera per far utilizzare la propria piattaforma in ogni casa. Chi non fa parte del nucleo domestico, che non si connette alla stessa rete wifi di chi ha creato l'account, il proprietario della mail associata all'account dovrà crearsi un proprio profilo. Per quanto riguarda i dispositivi connessi all'account principale, dipendono sempre dall'abbonamento che sottoscriverete. Quindi possono essere scelti anche quattro dispositivi. La cosa importante è che si connettano alla stessa rete wifi associata all'account, che può essere impostata manualmente. E non c'è più questa verifica di 31 giorni. Metti caso, insomma, cellulare, tablet, mac, uno dei quattro dispositivi associati all'account principale non viene usato per 31 giorni. Non c'è nessun problema. Cosa importante è che comunque sia, nel momento in cui Netflix vede qualcuno connettersi a quell'account da una posizione che non è la posizione principale, verrà inviato questo codice di verifica che dovrà essere utilizzato entro 15 minuti, ma comunque se ne potrà richiedere un altro. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi nuovi cambiamenti. Se avete dubbi o domande scrivetemele qui sotto, cercherò di rispondere a tutti. iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è anche azione, mettete mi piace su Facebook e seguiteci su Instagram per non perdere tutte le news riguardo al mondo del cinema e delle serie tv. Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.